Ciao a tutti da Cristian DJ, saluto del vlog, eccomi insieme a Repozino Massimo Marino. DJ c'è, DJ c'è. Vivi Roma c'è, un appello molto importante che facciamo con Massimo contro l'abbandono degli animali, dei cani. Non lo abbandonate DJ. Sono più abbandonate. No veramente non abbandonate perché se li abbandonate i veri animali siete voi. Bella fratello, lo Gio Marin a Torvaglielica c'è tutto. Salutiamo gli amici di YouTube, MySpace, Facebook, Twitter, che storia, mi sento la mitica comunità. Vivi Roma Television. No la comunità, Vivi Roma Pug TV. La comunità di Massimo Marino. Un saluto da Cristian DJ. Bella fratello. A tutti quanti. Bella. Bella fratello. DJ c'è. E voi. No, di voi voi. Voi. Ah. Brown.